Cari amici di Guida Rapida Celiaci, siamo all'Hotel Vera di Cesenatico, all'albergo del Chef Gigi, uno degli chef di ricette senza glutine, che ogni mese prepara i suoi piatti e li mette a disposizione dei nostri lettori. Dunque, l'Hotel Vera di Cesenatico è certificato AIK, quindi è specializzato nell'accoglienza di celiaci, ma non solo, organizza anche periodicamente dei corsi di cucina senza glutine. Per i nostri clienti, oppure per amici dei nostri clienti, insomma possono venire, può venire qualsiasi persona, basta che si prenota prima e poi noi organizziamo questi corsi, per esempio oggi c'è un corso di pasticceria, ma non la classica pasticceria tipo creme, mascarpone, tiramisù. Noi vogliamo insegnare ai nostri clienti quello che noi qui dentro prepariamo, cioè tutto fatto con farine naturali, niente preparati, niente con miglioratori, non ci sono farine additivi, niente, solo farine normali. Noi facciamo i nostri mix e li amalgamiamo e per fare biscotti, torte, crostate, altre cose che facciamo qui in albergo, più che altro per la pasticceria e per le colazioni e dopo pranzo, i dessert. In più facciamo anche dei corsi di piadina romagnola, che li abbiamo già fatti, questo è il terzo anno, che li abbiamo già fatti il mese scorso, oppure facciamo anche dei corsi per il pane, insegniamo a fare il pane, che i nostri clienti poi mangiano qui e noi diamo la ricetta, la diamo soltanto ai nostri clienti. Quindi oggi il corso di pasticceria senza glutine cosa avete preparato? Ho preparato praticamente, io l'ho chiamata torta vera, è una torta che si prepara in dieci minuti, più che altro per una casalinga quando viene a casa la sera, che non ho ancora preparato la torta per il giorno dopo, si fa in dieci minuti quindi con 300 grammi di farina, tre uova, lievito, un po' di latte, un po' di olio, si mischia tutto, si mette in forno e in un quarto d'ora e venti minuti la torta è già pronta, che sono queste che sono qui esposte, che le abbiamo fatte i nostri clienti. Poi abbiamo fatto la torta a una crostata, crostata con la marmellata di arance fatta da noi, i biscotti e biscotti al cocco, biscotti normali sempre con la pasta frolla. Questo è quello che abbiamo fatto oggi in due ore e mezzo. Quindi invitiamo tutti i nostri lettori a seguire Rochef Gigi anche al suo Telvera per verificare quando ci sono i corsi di pasticceria e di cucina senza glutine a Cesenati. Pubblichiamo sempre sul vostro sito, su ricette senza glutine oppure sul nostro sito mettiamo le date dei corsi che faremo in futuro. Grazie.